Sono qui oggi con l'invito di AES per partecipare alla giornata di lavori e di studi sul fascicolo del fabbricato. Il mio compito oggi è semplicemente di introdurre il seminario, ci saranno altri relatori che entreranno poi nel merito della parte tecnica. Il mio argomento si svilupperà, oltre che nei saluti, nel cogliere quelle che possono essere le occasioni future per i professionisti di area tecnica, in particolare per quanto riguarda questo nuovo argomento che si presenterà per noi tutti come una grande opportunità di lavoro e soprattutto una grande possibilità per i tecnici ma anche per i privati che dovranno poi in un futuro avere a che fare con i mobili che in questo momento saranno certificati. Concludo semplicemente dicendo che questa sarà una grande opportunità di lavoro per tutti i professionisti di area tecnica del modenese e non solo.